Quattro realtà a Varese, Bustrasizio e Somma Lombardo, centinaia di iscritti e uno sguardo proiettato sul futuro. Gli ITS si aprono al territorio, alle famiglie, agli studenti e più in generale a chi vuole toccare con mano e vedere da vicino quotidianità culturali, didattiche e formative degli istituti tecnici superiori, anelli di congiunzione tra scuola e impresa. Questi istituti tecnici superiori sono molto diffusi all'estero, soprattutto in Francia e Germania, molto conosciuti. Forse in Italia ancora poco, ancora meno e quindi queste iniziative insieme ad altre di sensibilizzazione, di diffusione di questa opzione di percorso di studi riteniamo sia molto più importante. L'ITS Day, in programma il 9 aprile a Malpense e Bustrasizio, si propone di snocciolare dati, illustrare contenuti, tendere mani a giovani neodiplomati interessati a specializzarsi in determinati settori produttivi, manifatturieri e merceologici. Sul fronte dell'offerta, il poker va risotto, distingue in positivo la nostra provincia, ma di istituti tecnici superiori, per dirla con le associazioni di categoria, non ce ne sono mai abbastanza. La vicinanza che c'è tra il mondo delle imprese e il mondo della formazione tecnica specialistica fatta dagli ITS garantisce una perfetta rispondenza dei profili in uscita con le esigenze delle imprese. Questo è il motivo per cui le imprese spingono per avere degli ITS. E così provincia, camera di commercio, ufficio scolastico fanno squadra e invitano i vari ITS, Incom, Red Academy, Mobilità e Cosmo a presentare le proprie peculiarità e si affidano sul fronte organizzativo e promozionale al pioniere del settore, Angelo Candiani, presidente dell'ITS di Somme Milano. Noi vediamo ogni anno il 95% dei ragazzi che a fine percorso ha già il posto di lavoro, talunni di loro hanno più di un'offerta. Quello che è interessante però è che vanno a fare un mestiere oggetto del percorso che hanno fatto. Le competenze sono quelle per cui hanno studiato, quindi è una potenzialità che entra nelle aziende preparata e rimane nelle aziende, che è un dato importantissimo.